Ben ritrovati in compagnia di Valentino Sacca per parlare di cinema e questa puntata è dedicata a un film che sta nettamente spopolando tra l'incassi del box office attuale che è ovviamente il nuovo capitolo dedicato al personaggio Marvel, personaggio supereroico di Doctor Strange e segna anche l'importante ritorno dopo nove anni di assenza dietro a una macchina da presa di Sam Raimi. Allora, il film devo dire che è un film in cui notiamo appunto il ritorno anche del linguaggio tipico del cinema raiminiano ma quindi un cinema solido, un cinema fortemente autoriale che però lascia anche spazio, ampio respiro comunque all'universo Marvel che ovviamente ecco, da un lato deve essere un film che non tenda a soffocare il linguaggio tipico del cinecomic Marvel perché comunque è un film fatto apposta principalmente per i fan del cinecomic Marvel ma anche è un film che riesce a farsi piacere anche ai fan del cinema di Raimi come sottoscritto, il sottoscritto non è, ammetto, un grande fan del cinecomic in generale sia Marvel che DC ma essendo un grande appassionato del cinema di Raimi del suo linguaggio, del suo umorismo del suo modo anche geniale di sovvertire i generi cinematografici si è divertito molto, mi sono divertito molto e ho goduto proprio anche esteticamente e linguisticamente appunto di un ritorno proprio molto più compatto per quanto riguarda appunto il modello cinematografico a cui Raimi ci ha abituati perché ci ha lasciati appunto nove anni fa con Il grande e potente Os un film che per quanto mi riguarda ci ha lasciato un po' così perplessi perché era un tentativo appunto di, da parte di Raimi di inserire qualche suo stilema ma un film in cui imperversava diciamo un po' l'universo disneyano e soprattutto anche il linguaggio bartoniano soprattutto quello di Alice in Wonderland che tendeva un po' a soffocare diciamo un po' a snaturare la tendenza anche umoristica se non proprio parodistica del cinema di Raimi anche in questo caso anche nel nuovo capitolo di Doctor Strange nel multiverso della follia c'è l'impronta disney ovviamente ma diciamo che non tende a soverchiare a livello di confezione di linguaggio partiamo dal film precedente di Doctor Strange che era diretto da Scott Derrickson e qui c'è una grossa differenza per quanto mi riguarda perché Derrickson non è un cineasta di cinema d'autore non si può considerarsi un autore di cinema ma un regista insomma anche un buon regista per certi versi insomma soprattutto legato a un certo tipo di horror contemporaneo ricordiamo Sinistra ricordiamo l'esorcismo di Emily Rose che erano poi degli horror effettivamente anche un po' legati a un discorso anche più drammatico e fortemente diciamo legato anche a certe dinamiche anche socio-realistiche e nel primo capitolo di Doctor Strange notiamo appunto che c'è una tendenza più al dramma e c'è poi tutto questo training diciamo preparatorio a far scoprire poi al personaggio stesso Doctor Strange i suoi poteri ecco e Derrickson diciamo ha diretto il primo film in maniera molto diciamo scolastica diciamo non per questo che sia stato un brutto film ma diciamo che Derrickson non ha aggiunto tanto del suo mentre ecco in questo film notiamo che c'è proprio un inserimento all'interno appunto dei canoni stilistici di confezione tipicamente della Marvel e i cinecomic in generale del del cinema di Raimi ovviamente ecco non ha voluto strafare Raimi anche perché il film non è scritto da lui si attiene comunque al soggetto originale del fumetto per quanto ho letto insomma però a livello di regia cerca di inserire di vivacizzare un po' anche con il suo umorismo tipicamente appunto insomma vagamente slapstick a tratti anche demenziale però contenendolo ovviamente in una storia che non è comica l'errore che invece hanno fatto alcuni registi a mio avviso che hanno cercato di inserire della comicità nel cinecomic instupidendo il prodotto e non ottenendo comunque una freschezza umoristica che invece Raimi ha ottenuto mi sto riferendo per esempio al terzo capitolo di Thor Thor Ragnarok diretto da Tagvaiti che è un regista insomma che è abbastanza particolare però secondo me in quel contesto ovviamente anche soprattutto il personaggio di Thor del protagonista comunque tendeva ad abbracciare un tipo di di comicità fracassona che non si addice comunque al prodotto alla matrice comunque del prodotto appunto in questione Raimi qui invece è diverso gioca sull'umorismo gioca sulle battute c'è anche un cameo abbastanza demenziale di Bruce Campbell che da sempre sodale comunque dai film d'esordi comunque dagli esordi appunto del cinema di Raimi pensiamo ovviamente alla casa Ash che è insomma il personaggio iconico per Antonio Masa e per Bruce Campbell che l'ha un po' legato anche a questo stereotipo della comicità demenziale fracassone fisiologica e poi via via durante il percorso della cinematografia di Raimi appare ogni tanto sempre in questi camei un po' diciamo autoreferenziali pensiamo anche alla trilogia di Spider-Man ecco in cui appare il personaggio di Campbell la figura di Bruce Campbell ecco faccio un attimo una digressione sul discorso di Spider-Man perché Raimi ecco è stato secondo me tra i primi autori di cinema quindi registri di cinema d'autore in grado appunto di già all'inizio degli anni 2000 quando comunque il cinecomic che diventava prendeva veramente intendeva ingrossarsi e diventava un genere a sé a sé stante come lo è diventato poi oggi a distanza di 20 anni devo dire che già ha saputo con Spider-Man utilizzare il genere per reinterpretare i propri stilemi senza tradire ovviamente la matrice del fumetto e questo ha continuato a farlo anche appunto in questo secondo capitolo di Talk Talk Strange in cui tra l'altro ogni tanto affiora anche la dimensione horror che è una dimensione che abita da sempre ovviamente dagli esordi il cinema di Raimi ecco se pensiamo a altri cinecomic appunto anche Villain che devono combattere i supereroi non hanno questa dimensione proprio anche matericamente horror cioè quasi tangibile quasi concreta ecco ci sono appunto zombie c'è una strega ci sono personaggi comunque che ricorrono spesso nell'universo di Raimi e il discorso è del multiverso di questo universo fatto di più facce della stessa medaglia di più dimensioni diciamo in cui i protagonisti trovano un doppio di loro stessi diverse dimensioni etiche diverse dimensioni appunto anche fisiologiche e estetiche è un po' un gioco di specchi un gioco di dimensioni che abbraccia un po' tutto il cinema di Sam Raimi Sam Raimi comunque dagli esorti della casa dalla trilogia della casa ma anche pensiamo poi a lavori successivi come Darkman e ancora anche la trilogia appunto di Spider già citata prima gioca molto sulla dimensione sulla pluridimensionalità i protagonisti del cinema di Sam Raimi sono personaggi solitamente che finiscono loro malgrado a cavallo di più dimensioni lo stesso esce tra la dimensione reale e quella ultraterrena appunto del male anche Jack Mead Hell se pensiamo anche qui un ritorno diciamo di Raimi verso il 2007 2008 se non sbaglio all'horror ma l'horror contaminato con la commedia in cui anche qui c'era una doppia dimensione quella terrena quella ultraterrena l'ultimo anzi il penultimo ormai film di Raimi di grande potente osa e ovviamente anche qui rifacendosi al romanzo c'è sempre un personaggio che sta a cavallo fra due dimensioni e anche appunto nell'ultimo Doctor Strange c'è questa doppia dimensione anzi diventa una multidimensione un attraversamento di più porte temporali spazio temporali che tra l'altro portano a galla anche una delle passioni di Raimi cioè quella del cartone animato perché c'è tra l'altro anche una sequenza molto bella molto interessante anche visivamente molto affascinante in cui i protagonisti attraversano più dimensioni e una di queste dimensioni appunto i protagonisti per un breve istante diventano cartoni animati ma poi c'è anche senza anticiparvi troppo senza spoilerare una sequenza di un combattimento fatto a colpi di musica ma in che modo in cui si va a concretizzare appunto si vanno a concretizzare le note musicali diventano materiche anche queste diventano un oggetto materico diventa un oggetto anche da scagliare durante un conflitto e anche qui questa diciamo dimensione astratta questo astrattismo grafico delle note del pentagramma colorato che richiama il cartone animato mi ha riportato alla mente gli astrattismi musicali per esempio di fantasia del capolavoro Disney del 40 e quindi questo melange di cartoon commedia azione fantastico orrore perché poi dimensione cupa orrorifica comunque ecco è molto presente in questo in questo film quindi ecco Raimi sembra tornato comunque diciamo al suo cinema sembra quasi diciamo un compendio di tutto l'universo raiminiano questo film in cui appunto secondo me è la prova lodevole notevole di come tanto cinema autoriale tanti autori di cinema riescono a trovare un compromesso tra la forma commerciale la forma comunque tipicamente del cinecomic con invece una certa profonda autorialità una profonda comunque conoscenza del cinema e del proprio cinema da rilanciare all'interno invece di un universo o altro io mi fermo qui e vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata grazie a tutti grazie a tutti